Ciao! Grazie alla tessera Sif Cultura alcuni luoghi e percorsi turistici della provincia di Frosinone sono accessibili anche in lingua dei segni italiana. Tu sei curioso di conoscerli? Eccone alcuni! Partecipare è facile! Compila il modulo di partecipazione e invialo all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ricordati di inviarlo almeno una settimana prima rispetto alla data di tuo interesse. Attendi che venga confermata la prenotazione. Riceverai una mail di conferma al tuo indirizzo di posta elettronica personale. In caso di disdetta avvisaci in anticipo. Per tutte le informazioni puoi videochiamare al numero in sovraimpressione. Quando? Tutti i venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Per qualsiasi informazione ti serva troverai un interprete LIS disponibile. Ciao a tutti! Vi aspettiamo! Grazie a tutti!